Stadio Comunale di Fiuggi, una partita bella tutto sommato fra il Cassino e il Racing Fondi. Ospiti graditissimi per il modo di rios, ma padroni di casa, il commissario prefettizio Taricone, il dottor Taricone e l'indimenticato e indimenticabile Peppe Ingociati, grande figura di sportivo. E' anche assessore a questo comune, hai fatto benissimo, penso che questo impianto è legato al tuo mandato assessorire. Diciamo che io ho ereditato nei primi anni questo impianto, abbiamo fatto il possibile per fare in modo che la cultura sportiva prevalesse, perché è una cosa importante soprattutto per le nuove generazioni. norme, regole e disciplina è la lettura dello sport e quindi siccome c'è necessità, soprattutto in questo periodo, è viva lo sport. E quindi, a prescindere da tutto, oggi siamo qui come ospiti, hai detto bene tu, siamo venuti a vedere una bella partita. Abbiamo visto, posso parlare anche a nome tuo, un ottimo Cassino. E chiaramente, poi parlando anche con Giannini, il racing è abbastanza in ritardo e appesantito dal lavoro. Quindi, insomma, è una gara che, a parte che ha evidenziato dei giovani importanti, è stata una gara abbastanza piaceva. Ingociati, ex Lazio, Empoli, Bari. No, Lazio no, Napoli sì. Napoli, cioè Napoli di Maradona. Napoli di Maradona, fra l'altro. E' compagno di squadra di Corrado Urbano, nel Empoli, per tanti anni. Come l'ha visto il lavoro di Corrado Urbano? Beh, gli ho fatto i complimenti, ho visto una squadra quadrata, una squadra che già sa cosa fare in campo. Io poi da tecnico vedo alcune circostanze che mi interessano, ho visto la mano dell'allenatore, quindi gli ho fatto personalmente i complimenti. Corrado è un bravo allenatore, quindi lo dimostra, l'ha dimostrato anche in questa occasione. Bene, lo ringraziamo e diamo la parola al commissario Taricone. Dottore, intanto grazie da parte della società per questa sua presenza, perché in senso lato, insomma, ha agevolato un po', diciamo così, il soggiorno qui dalla squadra del Cassino, ma l'avrebbe fatto come l'ha fatto, d'altronde, anche con la Vivo e Stabia. Il Fiuggi è una città che merita attenzione, merita di riproporsi come turisticamente al mondo, non all'Italia, al mondo, perché è conosciuto per le sue acque e per il trascorso che, non ultimo, quello culturale, ha ospitato qui manifestazione ovviamente di levatura mondiale. Beh, intanto la struttura sportiva che vi ha ospitato, di proprietà appunto del Comune, devo dire che è un gioiello, un fiore all'occhiello. Assieme ad altre strutture, l'intero impianto, che è polifunzionale, come avrete avuto modo di vedere, che comprende anche una piscina, un campo da calciotto e anche in terra, sicuramente è da migliorare. Come diceva prima l'amico Peppe Incocciati, lui da assessore allo sport, all'epoca queste sono strutture grossomodo nate sotto legge di quell'amministrazione, necessitano comunque di interventi migliorativi. Quindi oggi il tentativo mio è quello di cercare di, come diceva lei, di sviluppare il turismo, o meglio farlo tornare in auge rispetto ai tempi d'oro che ancora qui a Fiuggi ricordano, anche attraverso un turismo sportivo, che passa attraverso un utilizzo di queste strutture al top. Da questo punto di vista, l'incontro che ho avuto qualche giorno fa col presidente del CONI regionale, il dottor Riccardo Viola, spero che sia fuoriero anche di novità prossimamente, circa una corretta utilizzazione e una migliore utilizzazione degli impianti. Idee chiarissime, progetti che non mancano, è un po' la sua peculiarità in tanti anni di esperienza nel campo amministrativo, quindi non ha niente da solo avere, lei deve avere la possibilità di poter lavorare al meglio. Ecco, come diceva lei, la possibilità di poter lavorare al meglio sottende necessariamente anche di poter disporre di risorse finanziarie. Questo purtroppo è un aspetto critico, per non dire negativo, che in questo momento l'amministrazione sta vivendo ed è chiaro che non poter disporre di fondi che sarebbero necessari per intervenire in modo anche massiccio, sicuramente non è certo un buon viatico. E per quello che attraverso l'accordo con il CONI e magari anche con delle federazioni sportive, vediamo se riusciamo a mettere, come dico io, sotto il cappello di questi enti nazionali, queste strutture che quindi a quel punto potrebbero rifiorire e ritornare ad essere il vero fiore all'occhiello dell'amministrazione e nonché della comunità di Fiocci. Grazie per la sua disponibilità, la ringraziamo veramente di cuore. Grazie a voi, mi faccio concludere con un bocca al lupo a questa squadra, a questa società, anche perché la partita di oggi, prima c'è stato un giudizio più tecnico che sicuramente io non sono in grado di fare per quanto appassionato di calcio da tanti anni, ma ho visto una squadra in palla, ho visto dei giovani interessanti, quindi io penso che anche la serie che vi apprestate ad affrontare possa essere, il campionato possa essere disputato nel migliore dei modi. Grazie ancora, dottore Auguri. Arrivederci. Ed ecco il presidente Nicandro Rossi, soddisfatto di questa gara, di questa prestazione della squadra. Certo, abbiamo fatto una bellissima partita, però non è che ci illudiamo perché abbiamo battuto una squadra di Serie C, perché queste sono partite che non contano, sono solo per allenamenti, per provare qualcosa, schemi e quant'altro. Io sono contentissimo della squadra, soddisfatto per la prestazione che hanno fatto, quindi solo questo qua. Il comporto sono i giovani. Sì, 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 abbiamo veramente, sul gol di Lombardo, che è stato un bellissimo gol, che è un 99, soprattutto un 99 di Cassino, che ci fa onore. Bene, presidente, allora si prosegue qui con il ritiro fino a sabato, poi sabato sede ci sarà praticamente l'amichevole con la Sarnese, poi sciogliete le righe. Il sabato stesso c'è una bella manifestazione. Sì, è questo che volevo dire. C'è una bella manifestazione perché abbiamo finalmente ultimato il centro sportivo di Cassino, dove prima era abbandonato e adesso abbiamo ultimato anche l'ultima perla, che è un campo a 11, un campo sintetico di ultima generazione. Quindi qui ci saranno tutte le squadre giovanili che faranno un po' di esibizioni, saranno sicuramente oltre 300 ragazzi o le famiglie, che dalle 6 fino alle 8 si farà questa piccola manifestazione e poi verranno tutti a vedere. Presidente, una indiscrezione, come vanno la vendita dell'abbonamento? No, vanno discretamente, quindi bisogna incrementare soprattutto. Ma adesso questi partiranno appena, perché parecchia gente è ancora in ferie, quindi dopo le ferie, dopo il 16, il 17 di agosto partiranno sicuramente, venderemo parecchi abbonamenti. Noi ti ringraziamo per la tua consueta disponibilità e pazienza e ti facciamolo in bocca a lui. Grazie Gianni, ciao Crepi. Siamo in compagnia dell'indimenticato e indimenticabile Giuseppe Giannino, grande campione della Roma e anche la nazionale, che ci ha fatto divertire, io lo ricordo con molto piacere. Oggi è allenatore del Racing Fonti e è venuto qui a disputare l'amico con il Cassino. Come l'ha vista la squadra azzurra? Beh, l'ho vista bene, perché innanzitutto ci ha messo in difficoltà, ha fatto diverse cose interessanti, ha vinto la partita. Fa sempre, io credo, morale il fatto di riuscire comunque anche in queste situazioni a vincere. E poi a giocatori giovani interessanti che hanno dimostrato di essere già pronti, io credo, perché erano leggermente più brillanti di noi. Però poi dopo è chiaro che io stavo guardando più i miei e comunque c'è da fuori una discreta partita. Mister, qual è l'obiettivo del Racing quest'anno? Visto che ci sono state vicende societarie che fino all'ultimo momento adesso si è organizzate. Sì, il nostro compito è quello di riuscire a mantenere la categoria, credo che sia l'obiettivo primario. Quindi abbiamo adesso una ventina di giorni, circa, prima dell'inizio del campionato, per poter aggiustare ancora qualcosa. E poi dopo, insomma, il nostro obiettivo è quello. Arriverà qualche giocatore ancora? Penso di sì, spero di sì. Insomma, il direttore, la società, il stesso presidente stanno guardando intorno a qualcosa che possa servirci per migliorare l'assetto tecnico. Bene, noi la ringraziamo per la disponibilità e la salutiamo con affetto. Grazie a voi, grazie a voi. E allora, mister Urbano, bel galoppo per il Cassino. La squadra si è espressa, non dico al meglio perché è ancora molto da amalgamare come schemi, come gruppo, diciamo, in campo. Però è stata piacevole la partita, due bei gol, due giovelli veramente. Sia quello di Ceriento sulla punizione, quella poi di Simone Lombardi, che più passa il tempo e più cresce questo ragazzo. Comunque, una gara che, insomma, io intanto ti porto i complimenti che ti ha fatto personalmente anche Peppe Incocciati e Giannini, stesso Giannini. Una bella gara che è impressionata. Come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera? Ma vincere è sempre bello, però bisogna sempre dare la giusta considerazione a questi risultati. A me il risultato oggi interessa molto di meno di quello che è stato la prestazione, quello che è stato il modo di tenere il campo da parte nostra. Io ho visto una squadra che ha tenuto molto bene il campo, lasciando pochissimi spazi a una squadra di categoria superiore, che soprattutto nel primo tempo non è riuscita mai ad andare alla conclusione. Queste sono le cose che a me piacciono di più. Poi abbiamo fatto anche delle buone giocate in fase offensiva. Secondo tempo abbiamo giocato con otto under, però questi ragazzi sono bravi, sono di qualità. Noi gli under ce li abbiamo bravi, anche i giocatori grandi sono dei buoni giocatori. Noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo tenere sempre i piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare con questa umiltà, crescere giorno dopo giorno. Ho detto proprio stamattina ai ragazzi mettere un mattone sopra l'altro e cercare di costruire qualcosa di positivo. Però bisogna prendere con la giusta dimensione quelli che sono i risultati attuali. I risultati sono sempre importanti, l'hai detto tu, perché le vittorie poi quando portano entusiasmo, serenità. Oggi con tutto che era una giornata feriale su rispatti c'erano parecchi tifosi del Cassino. Ormai è incuriosita questa città, si trasmette la parola, passaparola e c'è tanto entusiasmo, c'è veramente tanto entusiasmo. Sabato torniamo giù, ci sarà un amiche con la Sarnese, poi non sciogliete le righe per due o tre giorni e poi si riprenderà. Poi riprenderemo dopo Ferragosto il 16 perché il 20 sicuramente avremo il turno preliminare di Coppa Italia. Noi da domani continueremo ad allenarci con la giusta determinazione, con la giusta applicazione. Perché la cosa che a me piace di questi ragazzi è l'approccio che hanno al lavoro. La squadra lavora bene, è un buon gruppo e bisogna continuare così, stare con i piedi per terra perché c'è tanto da lavorare. Secondo me possiamo migliorare tanto, però già secondo me qualche segnale importante anche a livello di squadra lo stiamo dando, soprattutto a livello di identità di squadra. Grazie mister. Grazie a te Gianni.